18 assoluzioni su 22 indagati. Questo è il dato macro che emerge da Palazzo di Giustizia con la sentenza sulle spese folli del parlamentino di Piazza Oberdan. Un solo rinvio a giudizio, quello del friuliano Ugo De Mattia, ex Lega Nord, e tre patteggiamenti, due accolti completamente, quello dell'ex presidente dell'Assemblea Eduard Ballaman, anche lui uomo del carroccio, e di Matteo Caldieraro, ed uno solo parzialmente, relativo all'ex capogruppo della Lega Narduzzi, che quindi dovrà tornare davanti al GUP. Il dato oggettivo, ha dichiarato il giudice Giorgio Nicoli al termine dell'udienza, è che queste vicende in Friuli Venezia Giulia, per gli imputati assolti, non sono riconducibili per tipologia all'esempio del Lazio, vede il caso Fiorito. Un conto ha spiegato e prendere denaro dal gruppo e metterselo sul proprio conto corrente o comprare immobili, ma nessuno qui era contestata all'appropriazione di fondi in questo modo, quanto invece la legittimità dell'ottenimento dei rimborsi per le proprie spese. Nonostante ciò, il PM Federico Frezza aveva chiesto che tutti e 22 fossero condannati, con pene che variavano da un anno a otto mesi, a due anni e tre mesi. Tanto per chiarezza, sono stati assolti, con rito abbreviato, i triestini Maurizio Bucci, Piero Camber, Piero Tononi, il consigliere comunale di Trieste Everest Bertoli, tutti del PDL, ma anche i colleghi di partito Massimo Blasoni, Daniele Galasso, Antonio Pedicini, Gaetano Valenti, nonché gli allora PD Gianfranco Moretton, Alessandro Tesini e Sandro Della Mea. Stessa sorte, ma con rito ordinario, per i tre attuali consiglieri Mara Piccin, Gruppo Misto, Elio Deanna, Forza Italia e Daniele Gerolin, PD, gli ex Roberto Asquini del Misto, Enore Picco e Federico Razzini della Lega e l'elicotterista Paolo Iuri.